Si rivolge esclusivamente alle province del Siracusano e del Ragusano. La misura che è ancora in fase di uscita darà la possibilità a chi vorrà partecipare di accedere a un fondo perduto pari a 100.000 euro. I requisiti necessari per poter presentare la domanda è essere o un'attività, una micro o piccola impresa, o essere un imprenditore agricolo, o qualora si volesse avviare una nuova attività è necessario costituire, prima di presentare la domanda, un'azienda, quindi iscrizione alla Camera di Commercio e quant'altro. Questo è ciò che bisogna preparare prima di iniziare a redigere il progetto. La prima data utile per presentare il progetto non è stata pubblicata e quindi di conseguenza non si conosce ancora anche la data di scadenza, però si presume che a breve potranno essere rese pubbliche. Il bando è molto interessante perché oltre a dare la possibilità di avviare attività artigianali che vadano a realizzare prodotti contenuti all'interno, non contenuti, all'interno dell'allegato 1 del trattato, sarà possibile anche avviare attività commerciali. E quindi questo è un parametro che è difficile da ritrovare solitamente nei bandi in uscita. Per cui si potrà avviare questo tipo di attività chiaramente soltanto nei comuni che hanno aderito a questo GAL. La percentuale prevista a fondo perduto è pari al 75% del progetto, quindi si suppone un investimento pari a 133.000 euro, per cui sarà possibile ottenere 100.000 euro totalmente a fondo perduto. Il progetto chiaramente dovrà prevedere la possibilità di realizzare opere murale, chiaramente limitate al 40%, la rimanenza potrà essere utilizzata per acquistare le attrezzature necessarie per avviare il tipo di attività. Inoltre bisogna dire che questo bando, soprattutto il 64C, darà la possibilità anche di coprire le spese tecniche, quindi le spese relative ai professionisti. È possibile visionare tutte le informazioni sul sito del GAL Natiblei, oppure per chi avesse altre dubbi o richieste di informazione sarà possibile inviare un'email all'indirizzo rubrica per le imprese chiocciolavideosicilia.com.